Salve sono Luigi Arpaia del ristorante La Panoramica a Lettere e stasera vi faccio vedere un formato di pasta inedito nato qua nella nostra azienda, i rigatelli al ferretto. Si parte da una base semplice di semola rimacinata, un impasto di semola rimacinata ed acqua e dopo lo andiamo a lavorare. Molto simile al fusillo che vicino a Gragnano lo fanno ma la differenza è che mentre il fusillo è arrotolato si parte da una base di tagliatella poi viene arrotolata su un ferro il nostro rigatello parte da una base di un cordoncino di pasta per poi cavarlo con un ferro da maglia che usavano le nostre nonne per tradizione antica e dopo lo caviamo su rigapasta. Eccolo qua